via registrazione via registrazione batti le mani qua vicino ok bravissimo per fare la sincronizzazione poi ti spiego tu li vedi ogni tanto i miei video si che li vedi anche quelli che abbiamo fatto insieme ti ricordi la parola che dico per iniziare devi parlare forte qua vai amici ciao amici oggi sono qui con un ospite d'onore devi guardare qua non devi guardare te un ospite d'onore veramente fantastico avrete visto il video dove io e Sasha giochiamo a questo e quello con le mollette e ho deciso di rifarlo con Christopher allora noi abbiamo preso questo e quello modalità bambino noi sceglieremo chi sbaglierà la risposta dovrà attaccare la molletta sull'avversario Kree non devi mai sbagliare oh per vincere questo gioco bisogna mettersi nella mentalità delle persone e immaginare che cosa le persone risponderebbero facciamo una prova solo una prova allora eh vediamo tu cosa preferiresti? Minecraft o Pokémon? Minecraft ah tu voti Minecraft io invece voto Pokémon questa è una prova eh ooooooooh in questo caso avresti vinto tu perché avevi più del 50% quindi dovrei prendere una molletta delle tue perché ha un pacchetto lui e un pacchetto io chi finisce le mollette vince questa era una prova meno male l'ho scampata sei pronta per iniziare? e chi riesce a tenere di più la molletta? vince dobbiamo riuscire a tenerle fino alla fine allora iniziamo tu cosa preferiresti? Eros Ramazzotti o i The Colors? The Colors allora io dico Eros Ramazzotti nooo ho perso ho perso ho perso allora la prima molletta devi mettermela tu dove vuoi nella faccia nei capelli e nelle braccia no ma proprio così dobbiamo iniziare Christopher dai ma non vale adesso ti batto Christopher e ridi ridi che la mamma fa dagli occhi cosa preferiresti? essere un uomo o essere una donna? essere un uomo essere un uomo anche io aia voto essere un uomo lo sapevo che avreste votato tutti essere un uomo non potermi caso allora cosa preferiresti? peperoni o melanzane? peperoni io faccio melanzane nooo non so ancora e cosa ridi? ridi ridi vai mettimi la molletta ehi ride ride lui bravo ridi dove? aia piano no aia 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 ha ridi uno sgabellotto cosa preferisci? caffè espresso o cappuccino? anche io avrei votato cappuccino andiamo avanti oddio che male oddio che male hai finito di ridere? vedi poi dove se le metto io le mollette allora gelato o pizza? io pizza ooooh e sabri vince sabri vince? fa così? dammi questo bel labbro vai christopher prego prego allora preferiresti vendere un diamante molto raro o vendere uno sverando storico? uno sverando storico allora io metto un diamante molto raro e saprei vince siiii preparati a parlare come me christopher oh che male resisti allora christopher preferiresti? mi sta sboccolando anche tu no resisti avere una ferrari costosa o vincere diecibila euro gratta vinci io dico la ferrari allora doppia ferrari no ah perchè erano 100.000 abbiamo perso tutte e due io l'attacco a me e tu l'attacchi a te cioè io l'attacco a te e tu l'attacchi a me no no non da lì da quella nuova ok e devi metterla all'altra però vai non vale nel naso no quella lì non è io oh io qua sei carina cristoferina che schifo ancora ognuno ha te bordò allora preferiresti essere invisibile o sparare raggi x dagli occhi avere poteri telefatici anche io abbiamo perso tutte e due nuova molletta tu l'attacchi a te no da qua se no non finiamo più no che schifo porca di papa scambiamocela con di tu l'attacchi a me l'attacco a te allora vai 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 tocca a te dove me l'attacco no dai dai ma guarda cosa sembro cristofer sembro dombo avanti piscina mare riattacca quella molletta io dico mare no ho perso attaccala qua che magari fa meno male dai attaccami la molletta scimunito dove me l'attacchi no sull'occhio no 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 dai allora qua aia eh ma si riesce cristofer ok no non vedo niente palermo inter 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 abbiamo vinto batte 5 non vedo niente non vedo minecraft o clash royale minecraft giusto anch'io minecraft 55 clash royale è scritto un po' male ragazzi sono strabica preferisci matematica o storia? ti vedo che stai imbrogliando molla quella molletta aia io dico matematica ooooo aaaaa ma no vieni qua no vieni qua mio bel cristo vieni qua vai dumbo aia eh aia facciamo che me la metto dove? dove hai messo questa? vai dove è? e l'altra dove la metti? eh qua aia cristofer non vedo più niente a un occhio infila sta molletta ok mi chiamava di più un occhio ah per la zona ti fa male aia dai scusa guarda che occhio c'ho qua io aia l'orecchio vabbè facciamo così doppio capello dai ti è andata bene solo perché ti voglio bene altro capello no 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 questo te la tieni nell'orecchio aia seguto allora ninjago o pokemon ok anche io pokemon si andiamo avanti raga il mio occhio guardatelo che forma guardate la mia tienili lì quell'orecchio aia mettili l'orecchio e perché tu l'hai fatto? ho cambiato solo occhio no metti l'orecchio aia e tu rimettitelo nell'orecchio allora aia andi avanti brasile o argentina? cristofer ti vedo argentina io dico brasile è possibile ho perso aia cristofer attaccami sta molletta morire? no questa la prossima ah si dove? eh te la metti giù grazie come me la diavolo me la cacca mi non so dai metti quella molletta sull'orecchio mia ma perché devo usare ste mollette? oh ma io vinco io vinco ciao sono cristofer e non riesco a tenere una molletta sull'orecchio preferiresti avere la febbre tutta la vita o morire il primo giorno di vita avere la febbre tutta la vita anche io bravo e non vedo niente sono cieca e invece mi fa malissimo lo so minecraft roblox oppure clash royale e the sims votiamo sempre minecraft no abbiamo perso tutte e due rimetti quell'orecchio allora mettiamocela in un altro po' dove? eh quella è tua eh infatti li scambiamo no sull'orecchio non vale no sennò se l'ho già messa sul braccio no vieni qua vai aia andiamo avanti vieni qua no no ho visto che bari fermo napoli o roma 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 anch'io 62 si va avanti dov'è quella molletta che hai in mano? preferiresti essere un supereroe invisibile o essere un supereroe volante? io volante e sabri vince 50,11 dammi il pollice si ah si si bravo vieni qua mister molletta pollice juve o barcellona? juve anche io dico juve se mi fa male questa molletta avanti football o basketball? si sono scritti un po' la francese football anche io voto football 70% vinciamo veloce perché mi fa troppo male anche a me essere un mago o essere un vampiro? vampiro io dico un mago oh vieni qua ciccioluccio 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 dammi questa boccuccia ciccioluccio molla lì cristofer no io ce l'ho su mettitele lì cristofer cristo cristofer mettila su una bocca cristofer ops mi è caduto il telefono e si è spacciato penso che abbiamo avuto un problema con il cristofer ok ok togliamo le mollette ah 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 vieni qua finiamo il gioco senza mollette solo una dobbiamo tenere sulla faccia non metterla mai sulla lingua fa malissimo allora una sul mento no troviamo il posto dove fa meno male ecco qua l'ho trovato io così dai vieni qua a finire il gioco aia chi fa prima tre punti vince io sono qua oceano o mare se certo io in bocca tu sui capelli no c'è scritto mettila in bocca ok mare o oceano mare mare ok avanti sto perdo da mare avanti preferiresti tenere il sorriso tutto il giorno o ficchiare la prova di matematica no guarda cristofer tenere il sorriso tutto il giorno vieni qua sedere no vedere e anche te no io ho vinto guarda aia cristo ciao amici devo andare a riempire cristofer di mollette è stato bello giocare con voi e adesso lo riempio di mollette e poi vi metto una foto quanto è carino con le mollette scriveteli qui sotto nei commenti un'altra challenge da fare insieme cristofer mi manda un bacione mandali un bacione cristofer mi manda un bacio io mi mando un bacio ci vediamo domani con il prossimo video che dolore sto so ando che scrivo ah no cristo cristofer oh mio saremo temporissimo giocina paparappo chi è il migliore chi ha vinto chi ha vinto chi ha vinto che mi scorreggio in fase di scorreggio nel cervello mi ero dimenticata di spegnere il video è stata una faticaccia Sì, 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 sì.